Buonasera, benvenute, benvenuti, grazie di aver accolto l'invito degli amici della Scala, questa, come dire, serata speciale di Prima delle Prime, speciale per tanti motivi, perché avremo fra noi tra poco il maestro Shahi, speciale perché è la presentazione di un'opera di Puccini di raro ascolto, tutto sommato ancora, ed è la prima grande produzione che il Teatro alla Scala propone in questo centenario della scomparsa del maestro, speciale anche perché abbiamo con noi il curatore dell'edizione critica, il professor Rindom, e speciale naturalmente anche per il nostro relatore di questa sera, che è un relatore che io ho molto piacere rappresentare, perché Fabio Sartorelli è un grande divulgatore ben noto, insegna storia della musica al Conservatorio di Milano e all'Accademia del Teatro alla Scala, tiene anche lezioni in collaborazione con l'Università Bocconi, con il Piccolo Teatro e questa sera col maestro Shahi ci proporrà una conversazione, in parte monologo, in parte duetto, con una serie di forme musicali, diciamo così, attorno appunto alla rombia di Giacomo Puccini. Gli lascio subito la parola e lo ringrazio. Allora intanto grazie naturalmente per essere qui. Allora Rondine, dico subito, è una delle tre opere meno popolari di Giacomo Puccini, cioè le Villi, l'Edgar e Rondine. Sono le tre opere che si sentono meno, si vedono meno, alcune non si vedono praticamente quasi mai, tendo a dire l'Edgar per esempio è davvero rarissimo poterlo vedere, la Rondine sta spiccando il suo volo negli ultimi decenni, meno male fortunatamente, però è curioso e di questo poi parleremo con il maestro Shahi, perché mentre le Villi e l'Edgar sono due opere giovanili di Puccini e quindi si può anche capire la relativa scarsa popolarità di questi lavori che appunto lui ha scritto all'inizio della sua carriera. Al contrario invece Rondine si colloca esattamente al centro tra la fanciulla dell'Ouest, che è del 1910, e la Turandot, che per forza di cose finisce nel 24, insomma, perché Puccini muore il 29 novembre appunto del 24 e quindi è in intreccio diciamo così con il trittico, stiamo parlando di un Puccini che è una star internazionale, cioè di un compositore noto a livello mondiale, eppure guardate ancora nell'agosto del 24 Puccini scrive queste parole, dice povera rondine mia, che ingiusto oblio, l'agosto del 24 vuol dire tre mesi prima di morire, quindi ancora lui si lamentava naturalmente del destino di quest'opera che giustamente amava tanto. Ha avuto, se posso dire, anche scarsa cittadinanza all'interno di questo meraviglioso teatro la Rondine. Perché? Perché dunque va in prima assoluta nel marzo del 17 a Monte Carlo, poi vi spiego perché. Poi alla scala, a Milano arriva naturalmente nel 17, a Milano arriva al teatro dal Verme nel 17, non è la prima italiana perché la prima è bolognese, poi appunto arriva qui e devo dire che Puccini è molto poco contento delle esecuzioni italiane perché dice che le esecuzioni italiane, gli interpreti italiani hanno appesantito tutto, hanno esagerato, insomma, eccoci qua. Ma non esageriamo più. Maestro. Io sarei qua. Chi è il testo incomodo? Allora se, non so se vuole mettersi qua. Io mi facciamo metterci qui, mi facciamo vicini. Va bene? Stavo finendo... Stavo finendo di dire appunto che... Perché io devo recuperare il respiro. Dalla prova. Prova, prova, prova stupenda poi tra le altre cose, è bellissima. No, 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 scusi, non puoi dirlo, certo. Però io che l'ho sentita posso dire che, insomma, secondo atto incredibile poi, cioè è complesso, belle cose. Allora, stavo dicendo che Puccini era molto scontento, per esempio, del direttore che aveva diretto al Dalverme, che era Mugnone. Era scontento anche dei cantanti, tant'è vero che in una lettera alla nipote scrive cani, ricani, riricani, scrive così, no? E poi dice, e il manico, cioè il manico, che era Mugnone, dice, quel Mugnone non vale assolutamente niente. Probabilmente era cambiata la storia anche della direzione d'orchestra. Cioè nel senso che lui aveva scritto, con un rondino, una partitura così raffinata, così, per certi aspetti anche ravelliana, no? In alcuni tratti, così raffinata che un Leopoldo Mugnone, che gli andava bene per Tosca, a distanza, che gli è andato bene per Tosca, a distanza di 17 anni, non gli va più bene per rondine. Quindi così. Dicevo che alla Scala ha avuto scarsa cittadinanza, perché viene diretta da Marinuzzi nel 40. Marinuzzi l'aveva diretta in prima assoluta. Lui era molto contento, tra l'altro Puccini, della direzione di Marinuzzi. Tant'è vero che diceva, se non avessi sentito l'opera a Monte Carlo, direi di aver sbagliato. E invece non ha sbagliato. Ha scritto una partitura? È vero o no? E quindi arriva con Marinuzzi nel 40, e poi nel 44 la Scala, con Carlo Gatti, fa un omaggio a Puccini straordinario. Perché nel giro, e stiamo parlando del ventennale, primo ventennale della morte di Giacomo Puccini, loro cominciano, la Scala comincia il 29 di novembre, a fare il festeggiamento, il ricordo, insomma, di Puccini, facendo nella stessa serata, pensate un po', le villi e turandotte. Cioè la prima opera di Puccini e l'ultima insieme. Secondo me, maestro, c'era meno rappresentanza sindacale un po' all'epoca, no? Se posso permettermi. Fai bravo. No, vabbè, scusi. No, anche perché... Parliamo di Giacomo. Parliamo di lui. Allora, perché poi nel giro di niente fanno la Manon Lescaux, poi fanno la Butterfly. Non ho mai capito perché abbiano fatto l'Edgar alla vigilia di Natale, io avrei fatto la Bohème alla vigilia di Natale, invece il giorno di Santo Stefano fanno la Bohème e gli va male, perché è un fiasco totale, viene fischiata per la scarsa abilità dei cantanti. Insomma, si finisce nel 1945 con Fanciulla dell'Ouest. Tutte le opere vengono rappresentate. Carlo Gatti dice, mai compositore, ha avuto nel giro di così poco tempo una rappresentazione tanto completa come quella che abbiamo fatto a Giacomo Puccini. Peccato che mancasse la rondine. Allora, Carlo Gatti dice, no, la rondine non l'abbiamo voluta fare perché aveva sortito un esito mediocre nel 40. Scusate, mi erano passati quattro anni, no? Magari se la riproponi quattro anni dopo può funzionare. No, dice, aveva avuto... E quindi in una situazione, diciamo così, celebrativa, come quella di cui stiamo parlando, non ci è sembrato il caso di correre il rischio di un altro insuccesso. Curioso che l'abbiano avuto con Bohème, cioè, comunque, invece... E quindi così. Insomma, rondine è rimasta esclusa. Mandelli, che è stato uno dei grandi entusiasti, come dire, della rondine, lui fedele d'amico, e Mosco-Carner anche, perché sono gli anni, diciamo, tra il 58, 59, 60, in cui ci si comincia ad occupare seriamente di quest'opera, perché il 58 era l'anno del centenario della nascita di Puccini, no? Quindi in quegli anni lì ci si comincia a preoccupare anche di rondine. E Mandelli, a un certo punto, tira un po' le file e dice, sono tre i casi della rondine. Il primo è stato quello di averla considerata un'operetta. Anzi, lui dice peggio, un'operetta mancata. Questo causa una lettera, poi, di Puccini, che ricorda il giudizio di Tito Ricordi, che diceva che era un cattivo lear, quindi un'operetta mancata. Quando in realtà noi sappiamo benissimo che era nata come un'operetta, ma poi in realtà è diventata un'opera. Cioè le parti parlate non ci sono. Mantiene alcuni tratti dell'operetta, la ricchezza, per esempio, dei waltzer, delle danze, eccetera. Alcuni ibisticci tra Prugnier, il poeta Prugnier e Lisette sono tipici, diciamo, del mondo dell'operetta. A che prezzo io ti sprezzo? E gli occhi, pochi tocchi, pochi tocchi. Anche questi giochi di parole sono abbastanza caratteristici, insomma, di quel mondo. Però è un'opera, a tutti gli effetti, di una raffinatezza incredibile. Ogni atto si spegne, piano piano, poco alla volta. E questo non è nella strategia dell'operetta, che almeno un finale grandioso lo vuole. Invece qui, e tra l'altro nella versione scaligera, mi faceva notare il curatore dell'edizione, Rindom, che il secondo atto finisce soltanto con la voce di Magda e non con Ruggero. E quindi ancora più si spegne, no? Intimamente questa cosa è bellissima. Lo abbiamo salutato, Dietlef Rindom. Sì, lo abbiamo salutato. L'abbiamo salutato, è qui presente. Molto benvenuto. Poi lo coinvolgiamo. Sì, lo coinvolgiamo anche perché, voglio dire, stiamo parlando di una versione che non si è mai sentita. Ma che versione fate della rondine? È sempre stata a Casa Sunzogna. Sì, questa invece è rappresentata a Casa Ricordi, con la sua revisione sul manoscritto, perché quella che sentirete è la versione pre-Montecarlo. L'avevi già detto prima? No, no, no. Allora lo dico io. No, però c'è. No, se no, poverini si scassa. La versione è zero, si scassa, no? No, no, la versione è zero, sì, dinulte. Facciamo dinulte. La numero zero, nel senso che la partitura che è stata ritrovata a Torre del Lago, negli archivi di Torre del Lago, è l'unica oggi consultabile di manoscritto originale puccignano. E quello che è interessante, al di là delle 87 battute nuove che sentiremo in questa versione, è proprio la purezza della scrittura. In due cose, dico, poi non c'è altro che ascoltare, più che parlarne. La riduzione drastica delle percussioni, comprese il timpano, che suona circa il 50% in meno della scrittura della stampa delle edizioni successive. E poi i tromboni, per esempio. I tromboni sono adoperati con una parsimonia, quasi più che complementare nel primo e secondo atto. Nel terzo atto, dopo la scena della lettura della lettera della madre e poi del grande duetto drammatico tra Magda e Ruggero, ecco, a quel punto appaiono i tromboni con accordi ripetitivi che danno il senso dell'ossessione della tragedia incombente. Cambia colore. Io trovo che il terzo atto si dice sempre che bella, che grande opera, peccato il terzo atto. E guardano con lo sguardo di compassione. Con lo sguardo di compassione. Allora, quello sguardo di compassione ce l'ho io in una fotografia di Giacomo nel mio camerino che mi guarda tutti i giorni con compassione. Con sta sigaretta in mano e mi guarda come credi di soddisfarmi? No. Ma perché? Perché il terzo atto di Rondine, secondo me, è il vero capolavoro. Quello che quasi tutti hanno sempre considerato come l'atto povero e mancante di... Non manca niente, compreso il finale. È perfetto. È nella sua stesura originale di questa versione la bellezza e la chiarezza della forma che vince. E forse allora, capisci, nel 17, la donna che lascia l'uomo. Non c'è il morto, non c'è il cadavere, non c'è l'omicidio, ma c'è la donna che in quegli anni lascia l'uomo. Perché non appartiene alla purezza ideologica a cui si riferisce la madre come ipotetica donna di suo figlio. Capisci? Questo è un fatto che forse va anche molto sottolineato. Cosa dice? Io direi che è peraltro una bella novità. Voglio dire, insomma, il panorama pucciniano sappiamo che è un panorama che lascia scie di sangue soprattutto femminili, con un'eccezione peraltro in Fanciulla dell'Ouest. Anche lì abbiamo una donna fortissima, naturalmente. Però nel caso di Magda poi... Fanciulla è Turandot. sono le uniche due eroine che sopravvivono al dramma. Esatto. Quindi però Magda invece è l'unica che sceglie di lasciare. E la cosa bellissima è che Magda ci sorprende in quel finale. Cioè nel senso che mentre in fondo con le altre siamo, con Fanciulla siamo pronti perché Minnie capiamo che è una donna fortissima, al contrario invece Magda sembra aver coronato il suo sogno. Certo qualche come dire qualche segnale c'è ma insomma e poi all'ultimo lei ci sorprende dicendo no io ti lascio perché ti voglio proteggere fra altre cose. Lo faccio per te. E poi è bellissima quella cosa che lei dice Puccini che ha pensato e ha adattato con la sua caparbia volontà il libretto a questa versione capisci la continua e costante delusione di aver scritto una grandissima opera quale questa è non esiste la parola operetta ma una grande opera con dei valori profondi assolutamente ci sono delle modulazioni nell'ultima parte del finale dell'opera dopo dico anche su che testo e a che numero di battute dove raggiunge il vertice massimo dell'armonista si sente che convive con Seghier Rachmanino fin quegli anni che studia tutti questi autori no? E vince voglio dire la sfida del grandissimo armonista evoluto stiamo parlando del Puccini sommo tra Fanciulla e Trittico e lì nasce la rondine e la grandezza proprio della combinazione dell'orchestrazione che è magistrale anche adesso se state a concertare con l'orchestra fino all'ultimo dettaglio proprio del duetto finale del secondo atto gli accompagnamenti non le melodie che tutti cantiamo che tutti amiamo no gli accompagnamenti all'interno delle melodie il clarinetto queste quartine che puntano un quarto tenuto le viole no? le figurazioni di accompagnamento le pulsazioni interne che sono scritte con una bravura e una maturità assoluta proprio per l'esperienza che lui aveva raggiunto ormai in quegli anni un'opera da questo punto di vista tra l'altro modernissima così come è modernissima anche la parte del canto curioso che Puccini nelle sue lettere quando si riferisce a se stesso lui che inventa il canto di conversazione io qui questo è il canto di conversazione infatti durante le prove ho notato quante volte lei ha detto affermato proprio per no sottolineare anche il coro naturalmente sottolineare e non hai sentito l'ultima parte adesso perché il coro abbiamo fatto proprio un lavoro specifico in cui sul canto del concertato secondo atto si inseriscono i tenori con delle figurazioni ritmiche all'interno del cantabile e queste io li vedevo cantare non lo sentivo per cui ho stressato le sezioni dei tenori onde proiettare questo tipo di articolazione per tutto quello che è il proprio rapporto della conversazione che avviene in quest'opera il continuo discorso che porta avanti il testo ed ha fatto un lavoro superbo adesso Puccini è incredibile perché nelle sue lettere per esempio lui non parla del canto di conversazione ma si riferisce sempre con termini un po' diciamo del suo tempo le romanze le arie quando in realtà aveva cambiato completamente il mondo lui e anche quest'opera è un'opera ripeto che io trovo di una modernità assoluta lui l'ambienta nel secondo impero cioè in un periodo che va dal 1852 al 1870 ma la cosa sconvolgente di questo lavoro è che in realtà i riferimenti tutti i riferimenti sono molto più moderni cioè arriva la dodecafonia arriva la dodecafonia oggi quando avete sentito quel passaggio primo atto si sovrappongono dodici suoni tocca la scala dodecafonica e poi sfoga invece in un tema di Walzer straordinario cioè è evolutivo è stravinskiano convive con la musica di Stravinsky questa musica è evidente e poi quello che diceva siciliano siccome come diceva lei trionfa il Walzer perché appare dodici volte in quest'opera di cui la parte centrale del secondo atto è proprio una dedica a Richard Strauss in particolare l'avete sentito anche come l'affronto io al Rose Cavalier ma la cosa interessantissima secondo me è proprio capire quanto lui avesse studiato le danze di quell'epoca le cinque danze il foxtrot il foxtrot sì la polka il tango il quick step che è una forma nuova di foxtrot e poi lo slow fox che oggi come l'abbiamo sentito ogni tanto io mi scaldicchio quando concerto anzi mi scaldo assai quando non hanno fatto il portamento sullo slow fox che nasce dal musical americano dell'intorno degli anni 15 che lui ha assorbito andando a New York ascoltando Fanciulla è evidente e non fanno il portamento e allora mi scaldo perché se non fai il portamento vuol dire non aver capito il senso e poi l'hanno fatto in maniera superba l'orchestra Piolini e Viole proprio perché c'è anche un fatto di confidenza con quest'opera che manca perché manca la scala da 30 anni il maestro Gavazzini è l'ultimo grande maestro che ha creduto è da allora che manca quindi un'orchestra che non affronta un'opera per 30 anni anche se alcuni musicisti ricordano bene l'esecuzione del maestro Gavazzini non c'è quel rapporto di confidenza col testo quindi bisogna vincere le timidezze e poi si diceva oggi con il professor Rindom è un'opera italiana che però ha riferimenti sicuramente viennesi che però ha sicuramente riferimenti francesi che però ha sicuramente riferimenti del nuovo mondo cioè è un come dire un punto davvero di snodo di tante civiltà e di tante culture diverse e il tutto negli anni della prima guerra mondiale questo è importante quello che dice Sartorelli perché così forse entriamo nel vivo dell'enorme frustrazione che Puccini ha vissuto per quest'opera perché sapeva di fare esattamente quel tipo di discorso ha fatto un lavoro di ricerca come diceva Enzo Siciliano lui compone il waltzer studia il waltzer non è possibile che un'orchestrazione di questa categoria non sia stata fondata sullo studio attento dei waltz nobles sentimentali di Maurice Ravel che è una pagina immensa che io peraltro ho diretto a Lucerna qualche anno fa quindi c'è questa continua attenzione secondo me a Stravinsky ma anche a Maurice Ravel e Claude Debussy tutto quel mondo di quegli anni che lui studiava e affrontava nella sua maniera rimanendo sempre se stesso anche quando scherza col tema Salome Toriroro fa il tema delle tre note di Salome di Strauss lì gioca poi immediatamente dopo mette gli archi in come dice sul ponticello come dire abbiamo scherzato e fa una reazione timbrica dopo quella citazione della Salome di Strauss quindi gioca con i contemporanei in un modo formidabile secondo me anche con se stesso perché a un certo punto c'è la bohème dentro quella sentita dunque quella bohème nel primo atto sentirete state attenti perché io l'ho stressata non poco però questo me l'ha suggerito il maestro pianista allora io cosa ho fatto ho decomposto la partitura di Rindon ho tolto le legature ho tolto i piani ho aggiunto gli accenti è venuta fuori questa cosa però è incredibile secondo me lui si divertiva tutto me lo vedo sul pianoforte verticale di Torre del Lago me lo vedo alla notte al buio con poca luce che dice io comunque inserisco il tema della bohème ed è bellissimo quindi secondo me è interessante anche capire l'autocitazione come è in questo senso molto ammiccante e secondo me da sottolineare anche assolutamente anche perché sono tutte citazioni e l'autocitazione che esulano dal periodo storico dell'ambientazione della rombine cioè voglio dire forse la citazione più tra virgolette vecchia a parte il finale con i violini acuti che potrebbe rinviare alla traviata perché in fondo in trasparenza c'è la storia di Violetta perché lei è una mantenuta perché vive il suo sogno d'amore fuori Parigi in povertà va bene sì non solo tutto questo convive ma ci sono registi e la parola regista già voi mi conoscete allontana le mie passioni i registi hanno pensato di fare una genialata cosa io non trovo che sia minimamente geniale di ambientare traviata una sera e la ronde il giorno dopo esattamente nello stesso set scenografico a me queste robe qui non piacciono anche perché io adoro la traviata di Verdi perché è così profondamente legata al suo linguaggio di quell'epoca della trilogia romantica insuperabile capolavoro assoluto e questo è un capolavoro indipendente quindi è vero che ci sono queste analogie però questa idea di volerle sovrapporre scenicamente di questi registi alcuni registi io chiaramente chiaramente non la provo però non è quello che non è l'operazione che sta facendo ecco allora glielo chiedo perché molti vorranno sapere se vedremo il secondo impero quindi vuol dire io non dico niente dica tutto lei 1852 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 la mia risposta è l'abbiamo vista volare abbastanza nella nostra vita chi ha seguito la rondine forse è il caso di pensare qualcosa di certo tra l'altro Rindom che magari poi coinvolgiamo ha fatto uno studio vede cosa porta a studiare la musica cioè uno studio lo dica forte perché qui i miei nipoti no guardi i miei nipoti esatto una poi anche sua allieva una anche mia allieva esattamente ma poi maestro cominciano studiando la musica e poi come il professor Rindom si ritrovano a studiare per vedere se quei locali citati nella rondine erano presenti a Parigi al tempo del secondo impero oppure no è molto interessante e naturalmente non erano presenti sono locali successivi perché è un'opera proiettata in avanti la citazione più vecchia giustissima la citazione più vecchia è 1896 Bohème poi c'è Strauss Salome siamo nel 1905 quindi comunque siamo molto più avanti e poi ci sono One Step Foxtrot Slow Fox 1915 1915 Musica di Salome Salome Music anni venti anni quindici anni venti tra l'altro oggi mi veniva in mente che lui si appropria di quella musica lì si appropria del Foxtrot lo Slow Fox il One Step eccetera eccetera ma è bellissimo puoi vedere come negli stessi anni quel mondo si appropria di Puccini cioè nel 1922 potrei sbagliarla data lui scrive una lettera a Riccardo Schnabel in cui dice ho fatto causa ricordi secondo me non vedeva l'ora visto e considerati i rapporti con Tito Tito II dunque dice ho fatto causa a casa ricordi mi chiederai perché dice è perché molto semplice dice dunque hanno scritto un Foxtrot sul mio e lucevan le stelle l'Avalon Foxtrot e dice e Ricordi il Dipartimento americano di Ricordi ha pubblicato il Foxtrot intitolato Ciocio Sun sui temi della mia Butterfly allora Puccini s'arrabbia non tanto per questa perché secondo me questa appropriazione gli faceva piacere cioè vedere che il mondo della musica popolare diventava si appropriava del suo mondo io sono certo che lui scusi maestro nel 12 si compra un motoscafo e lo chiama Ciocio Sun e ci va in giro a 100 cavalli e ci va in giro per il lago di Massaciucoli poi si compra una barca per 20 persone e la chiama Minni cioè ma era il testimonial di se stesso come nessun altro no avesse avuto internet era sulla rete un giorno ma è anche noto quanto lui apprezzasse la domenica mattina nelle piazze quando le bande delle città facevano i medli delle sue opere e lui era contento di questo fatto alcune cose l'ho addirittura incise io anni fa in trascrizioni di pagine minori meno note ma che abbracciano anche temi della bohème per esempio e lui era presente questa cosa lui la gradiva cioè non la sentiva come una violenza al testo originale me lo ricordo perché c'è quel famoso Puccini Discovery quello proprio lì proprio lì dove c'è lei che dirige praticamente quella la corazzata Sicilia la corazzata Sicilia esattamente la corazzata Sicilia con dentro tutti i temi della bohème è meravigliosa quindi è un mondo che lui viveva da ascoltatore ma apprezzava lì dice ho fatto caso a Ricordi perché Ricordi si è fatto dare da questi 14 mila dollari e se li è tenuti e a me non ha dato niente cioè mi pare che l'uomo d'affari tutto sommato avesse ben ragione no? quindi così allora no però tornando invece alla nostra regia quindi maestro che cosa no no io parlo della partitura lei parla della regia allora io non voglio svelare molto però quello che posso dire è che io ho visto uno spettacolo molto raffinato sicuro molto di classe molto bello cioè è uno spettacolo da non perdere nasce sull'eredità del dittico di Kurt Weill che abbiamo fatto qui durante la pandemia senza pubblico di due atti unici di Kurt Weill magnifici e con Irina abbiamo lavorato proprio una volta insieme abbiamo visto che funzionava la doppia idea di teatro in musica e quando si è arrivati a pensare come in che tipo di direzione andare per Rondine ho pensato veramente che lei potesse dare oggi un'immagine diversa perché non volevo portare alla scala in questo percorso importante che sto facendo da Puccignano la Rondine prevedibile cioè quella che abbiamo già visto tutti secondo me Rondine chiede vista la grandezza della partitura della musica la forza della musica chiede un'idea nuova e questo è quello che Irina sta dando sicuramente in una visione molto contemporanea tra l'altro devo dire anche la bellezza di lavorare con interpreti così giovani e così bravi tutti devo dire poi lei ho sentito oggi la prova c'è la Lisette che era purtroppo malata perché ha un problema di Marligola che è brillantissima sia scenicamente che localmente così come Magda insomma sono bravissimi sono giovani ma molto bravi Lisette vi sorprenderà perché è un personaggio incredibile un personaggio che scompiglia sai quando l'azione comincia a languire un po' arriva questo fulmine al cielo sereno che è Lisette che o annuncia qualcuno o riconosce la padrona insomma è un personaggio è una straordinaria subrette ma è anche un po' il sole poi nella casa di Magda cioè Magda ha bisogno di un personaggio così e ci fa capire insomma che Magda comunque vive sì nella ricchezza ma è una ricchezza senza calore una ricchezza fredda freddissima non so se il professor Rindom vuole intervenire vuole dirci con piacere venga 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 con noi prego prego io tra l'altro prima ho chiesto una cosa al professore alla quale mi ha dato una risposta gliela richiedo professore posso? con piacere sì allora noi ascolteremo come ha detto il maestro Chagli la versione 0 cioè una versione che non è mai stata eseguita dal 1917 ad oggi verrà eseguita in prima assoluta al 4 aprile quindi alla scala con la direzione del maestro Chagli e notavamo molte differenze alcune delle quali decisamente più logiche rispetto alla prima versione familiare dell'opera per esempio Prunier canta due strofe ed è logico che ciò accada e non una come succede invece normalmente ed è logico che ciò accada perché Prunier è l'autore del sogno di Doretta quindi è chiaro che lui abbia più cose da dire rispetto a Magda poi che Magda le dica in maniera più appassionata è altrettanto ovvio perché lei questo sogno lo vive sulla pelle e poi parlavamo del finale del secondo atto appunto dove c'è solo la voce di Magda senza la voce di Ruggero e questo spegnersi poeticissimo bellissimo del secondo atto ecco professore le rifaccio la domanda di oggi vorrei una risposta per oggi perché non gliela faccio tra me e lei come prima è stato vago adesso guardi quante persone c'ha quindi deve rispondere e la domanda è la seguente per la quale per quale ragione Puccini che termina la partitura nel 1916 poi nel 1917 mette in scena una prima versione tutto sommato con delle differenze anche opinabili rispetto a quello che aveva scritto nel 1916 è una domanda molto importante ma è vero che la Rondine ha una storia molto complicata è anche chiaro che per Puccini questo atto terzo è sempre stato un atto molto difficile per finire Puccini ha ricevuto questa commissione dal Calteat in Vienna in 1913 volevano un'operetta e Puccini ha detto sì va bene scrivo un'operetta con dialoghi parlati e pochi mesi dopo lui ha detto mi dispiace ma per me questo non è possibile dialoghi parlati io non faccio è impossibile voglio scrivere un'opera comica nello stesso stile di Rosenkavali e di Richard Strauss lui è cominciato ma è vero che l'atto terzo è sempre stato molto difficile per lui perché la Rondine ha questo equilibrio molto delicato tra comedia e tragedia è un equilibrio veramente difficile anche per me una domanda molto basica per la Rondine come fa finire un'opera i primi due atti sono brillanti con un po' di malincolia ma è necessario scrivere un atto terzo che è triste ma non troppo triste perché non è una tragedia è una comedia lirica quindi io penso che lui Puccini ha scritto questa versione originale a lui aveva un anno più di pensare e poco a poco lui aveva più dubbi e questi dubbi hanno lui aveva questi dubbi per alla fine di dieci anni perché lui ha fatto questa prima versione pubblicata pochi mesi dopo la prima mondiale e un anno dopo lui ha deciso di fare una seconda edizione con un terzo atto completamente diverso e due anni dopo una terza versione con un terzo atto completamente diverso quindi è ovvio che lui aveva tanti dubbi credo che è possibile che nel teatro dopo stare a Monaco che è un teatro molto piccolo lui decide che abbiamo bisogno di cambiare alcune cose nell'orchestra perché questa prima versione è molto trasparente molto leggera è possibile che lui decide che abbiamo bisogno di più timpani più tromboni per questa opera ma io credo per me questa prima versione c'è un'unità drammatica molto più forte che la prima edizione io non capisco perfettamente io non lo capisco perché lui ha cambiato questi dettagli perché è veramente un gioielli veramente bellissima scusi professore così com'è per esempio l'opera ogni atto termina con la voce di Magda esatto e lei sola come dice canta solo sul palco abbiamo queste immagini che Magda è una donna moderna lei sceglie al finale che lei vuole ritornare a Parigi per stare insieme con Rambaldo lei non è una donna tragica esattamente come Violetta è una donna moderna questo è molto importante per quello penso io che questa versione originale è molto più interessante che la prima edizione per me se posso dire Alfredo Mandelli che aveva così tanto creduto nella rondine ha portato nell'87 a Comunale di Bologna la terza versione che io ho ascoltato dal pubblico in cui il finale inseriva tutta una parte che Puccini con Rambaldo che torna e cosa ha fatto ha inserito la parte aggiunta di Corriento di Rambaldo col pianoforte l'orchestra si fermava è andato avanti il pianoforte con i cantanti pianoforte l'azione continuava finito quello poi ritornava alla conclusione della versione classica è stato un fatto così di studio interessante nell'87 però secondo me la grandezza di quello che abbiamo scoperto adesso cioè la fortuna in un certo senso perché guardate che la partitura originale di Rondini non esisteva più nel senso che col bombardamento milanese della seconda guerra l'archivio di Sonzogno era stato bruciato quindi non c'era più abbiamo la fortuna di avere questa versione originale di Pugno di Puccini quindi è più che mai importante fare una riflessione i tentativi di Mandelli allora in 87 erano tutti interessanti perché erano propositivi era giusto anche tentare nuove strade ho anche sentito orchestrazione fatta da altri in stile di Ferrero sì sono tentativi però ragazzi è come come si può pensare di avvicinarsi a Giacomo Puccini io sono d'accordo su come l'ha fatto Luciano Berio tanti si dissociano no ma quello non è il finale di Turandot va bene quello è quello che pensi tu e quello che pensi tu io la penso diversamente cioè lui non ha voluto travestirsi da Giacomo Puccini capisci avanzato negli anni no lui ha adoperato il suo linguaggio per cercare di saldare la parte mancante dell'ultima dell'ultima fase di Turandot nel terzo atto e questo l'ho trovato interessantissimo entrando negli schizzi lasciati a Puccini che inseriva a mosaico come faceva Luciano adoperando il suo linguaggio quindi era un modo onesto di tentare di riparare quello che mancava io ero molto convinto di questo tipo di attenzione perché poi non cerca mai di sostituirsi ma cerca di aiutare un autore di dare una mano quindi e quindi io credo che questo che Rindo mi ha portato alla stampa con Casa Ricordi sia io mi auguro un nuovo inizio per quest'opera perché è di valore talmente alto che mi auguro che da questa versione poi nascano nuove esecuzioni questo è il mio auspicio e la speranza anche sì io credo di tutti tra le altre cose poi al di là della bellezza della musica lo spettacolo è bellissimo fra le altre cose secondo atto spettacolare lei lo vive come un incubo all'inizio dico senti un po' l'orchestra è deflagrante apri vedo buio com'è sta storia dico c'è il fuoco in l'orchestra ma è un nightmare è un nightmare lei ha un incubo la regista che sarebbe se stessa rappresentata da una ragazza comincia con un incubo fammelo capire allora sto incubo infatti dice se tu guardi sul coro che diciamo sono in controluce rispetto alla platea ha delle proiezioni delle proiezioni di movimento su di loro sui fisici dico allora fammele capire fammele vedere queste proiezioni allora la terza volta ho cominciato a convincermi che mi piacicchia l'idea registrica guardate che se io dico piacicchia è già un trionfo perché io forse vabbè forse avrei dovuto dedicarmi di più alla sinfonica con questa attitudine però io credo molto in questo teatro in quello che faccio a volte soffro ma vabbè fa parte del gioco però secondo me è interessante invece pensare alla grandezza di Rondine anche con questo fatto proprio di immagine propositiva nuova e anche l'idea dell'inizio del secondo atto di fatto così è molto personale ma molto nuova anche certamente comunque è così Puccini è sempre tornato sulle sue opere poi di fatto cioè non è una novità questo e quindi Rondine tutto sommato non fa assolutamente eccezione da questo punto di vista tra l'altro quando lui arriva alla terza versione che è quella di cui lei parlava con un finale molto meno romantico se posso dire perché torna il potere del denaro nella terza il denaro perché lui Rambaldo nella terza versione arriva con un portafoglio pieno di denaro con sopra cucita una piccola rondine bianca certo ecco però poi di fatto si capisce insomma Puccini alla fine ama la prima versione quella quella che forse porta avanti anche perché la terza non riesce a farla passare da nessuno non credo che sia mai stata eseguita la terza anche la partitura è mancante non esiste la partitura orchestrale era solo scritta per canto e pianoforte esatto ma io credo scusate ma chiediamoci credeva nella prima versione ma se non credeva se la teneva a torre del lago fino adesso cioè sarebbe stato il primo a distruggerla così come è andato perduto il quarto atto di Edgar Edgar purtroppo è stato distrutto è andato perduto è stato distrutto è andato perduto adesso nella ricerca a torre del lago è arrivato il quarto atto scritto da Puccini semplicemente era rilegato con su scritto terzo atto c'era scritto nella legatura terzo atto e questo terzo atto includeva anche invece il quarto quindi questo è l'equivoco ma un equivoco abbastanza incredibile perché per tantissimi anni abbiamo creduto che non esistesse quindi perché tutto questo era in casa sua perché evidentemente credeva era convinto che il valore un giorno forse sarebbe tornato ad avere una vita indipendente no? è cosa che sta capitando adesso e credo anche mi diceva ricordi anche Edgar presto sarà stampato definitivamente nella versione a quattro atti e quindi siccome mi pare che a lei manchino sostanzialmente le viglie l'Edgar a questo punto no ne manca un'altra ma il sovrintendente trema quando la nomino che è la bohème e Dominique che è coraggioso ogni volta che dico è la bohème parliamo d'altro che idea hai per pranzo capisci dove andiamo a mangiare capisci perché fare la bohème alla scala con quello che è stato alla bohème di Kleiber di Karajan di tutti i grandi maestri che sono venuti da prete eccetera quanti ne ho visti anch'io in questo teatro e Franco Zeffirelli e con quei cantanti capisci diventa un progetto sfida spaventoso però anche il teatro alla scala un giorno dovrà avere il coraggio con me o senza di me completamente indipendente della cosa ma l'idea di portare una nuova bohème io l'ho incisa la bohème con i complessi scaligeri con Alagna Georg ma ormai vent'anni fa quindi l'ho fatta discograficamente con i complessi della scala ma non teatralmente quindi sono tre cose ma chissà chi vivrà vedrà perché anche lì ci sarebbe a questo punto l'Edgar tre atti quattro atti le villi un atto due atti anche lì ci sarebbe guardi che io ho studiato il quarto atto ricostruito di Edgar guardate che si dice sempre che Puccini non ha mai dedicato il canto al mezzo soprano è vero ma studiate Tigrana il ruolo di Tigrana nella versione originale è una leonessa è una leonessa per tutta la sera è la prima donna di quell'opera e lei chiaramente il soprano ha grandissimi momenti ma nell'integrale Tigrana il mezzo soprano ha un ruolo definitivo quindi bisogna studiarla questa versione senti maestro tornando a Rondine io prima ricordavo che appunto Rondine è una delle opere meno eseguite insieme all'Edgar e le villi che però sono opere giovanili mentre l'Edgar è un'opera della maturità di Puccini è un'opera che Puccini ha scritto quando era un divo cioè conosciuto a livello mondiale insomma e allora come si spiega la difficoltà di Rondine di spiccare il volo cioè le dico solo questo ho letto la critica che uscì a Monte Carlo dopo la prima e dissero che era un'opera bellissima e tra l'altro cogliendo il carattere di Rondine cioè la leggerezza insieme alla sua capacità di essere sempre sentimentale emotivo insomma quindi poi però ho letto quello che lo stesso giornale ha scritto nel 26 e comincia così se Puccini fosse vivo dovrebbe ringraziare il direttore del teatro di Monte Carlo per questo suo tentativo di ridare vita a un'opera che vita non ha erano passati in fondo nove anni eppure cioè sembrava davvero che Rondine non volesse più spiccare il volo evidentemente quel signore non ha ascoltato la versione del 19 a Monte Carlo diretta da Victor De Sabata ah giusto che ha dichiarato la partitura più com'è la frase di De Sabata perché la più elegante e raffinata partitura di Puccini è Rondine detto da Victor De Sabata voi conoscete tutti l'incisione di Tosca con Callas di Stefano e Gobbi sapete che direttore Puccini è stato maestro De Sabata lui dichiara questo dopo averla diretta nel 19 a Monte Carlo quel signore un bravo giornalista non avrà ascoltato quell'esecuzione perché se voglio dire la prima mondiale con Marinuzzi è stata eccelsa come anche la prima con gli anni 40 a scala ma Victor De Sabata sarà stato sicuramente dal punto di vista dell'evidenza del peso interpretativo esemplare quindi è evidente che ci sono delle mancanze se si parla così se si scrive così si dà un giudizio di questo tipo manca forse un'esperienza d'ascolto di quel tipo che era forse quello che sentiva Puccini mancare nelle edizioni italiane come lui lui si lamentava sempre diceva tutto pesante tutto pesante invece manca leggerezza manca trasparenza i famosi tre termini che sembra così facile sembra così facile cos'è che diceva lui la chiave interpretativa è molto semplice fierezza no scusa finezza sfumature flessibilità flessibilità ecco tre cose beh ma cosa ci vuole e no 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 ci vuole tanto per arrivare a questo e queste sono tre parole che fanno capire anche la delicatezza del testo musicale e quindi la sua intrinseca difficoltà senta maestro io vorrei farle un'ultima domanda se è possibile ed è questa allora intanto voglio ricordare che Puccini definì Rondine una reazione alla musica moderna che dice è come la guerra cioè è incredibile perché Puccini Puccini la segue la musica segue anche nel 13 per esempio segue non la prima ma comunque una delle prime esecuzioni di Sagra della Primavera insomma lui dice coreografia ridicola musica caotica ma scritta con un certo genio ma si aggiornava come è andato a Firenze ad ascoltare Pierolonea di Schoenberg cioè era attentissimo ricordate che nel 1907 a Graz la prima di Salome diretta da Strauss c'era Gustav Mahler con Alma Mahler c'era Zemlinski ma c'era anche Giacomo Puccini che tornando da Budapest si è fermato per ascoltare a Graz la prima di Salome cioè voglio dire sono fatti importanti per far capire il senso del rapporto culturale con la musica parallela alla sua contemporanea e quindi in questo senso ruggisce questa partitura e chiede come si può dire un riconoscimento di valore perché giustamente il valore è enorme è enorme è questo sicuramente D'Amico però diceva quando si parla della modernità si parla sempre di Electra di Salome e di Wozzec dice tra l'altro tre opere che hanno dentro tre personaggi animati da violenza profonda e dice quando avremo il coraggio di anteporre a questi tre titoli Tosca che cronologicamente viene prima e ha dentro uno scarpia giustissimo la domanda è maestro il tempo è arrivato per dire davvero che insomma Puccini è uno dei più grandi rappresentanti della modernità del novecento assolutamente ma non lo diciamo solo noi ricordo purtroppo non è più con noi Luciano Berio ma era un uomo molto parco di complimenti era ricchissimo di critica su tutto e su tutti perché era un uomo con una sapienza una cultura generale schiacciante Luciano e mi ricordo alle prove di lettura di Turandot ad Amsterdam veniva da me era già molto malato peraltro due anni prima che morisse e ha detto ma Riccardo ma ti rendi conto che il primo atto di Turandot è la più grande musica del primo novecento che l'Italia abbia mai avuto proprio testuali parole e io dicevo è proprio così è allarmentemente vero è una una verifica di grandezza questa e lui lo diceva quindi questo è secondo me emblematico è una citazione che spesso ricordo perché va detta questa cosa perché fa pensare anche a tutta la corrente che per troppi anni è stata refrattaria alla grandezza di Puccini e io combatto da anni da musicista la stessa identica non è una battaglia ma la convinzione nell'eseguire Sergei Rachmaninov perché ha patito esattamente lo stesso lo stesso tipo di attitudine capito e sono giganti del novecento che hanno bisogno di essere proprio riconosciuti quotidianamente però la popolarità e l'amore che il pubblico di tutti di tutte le nazioni del mondo continua a tributare a Puccini che è uno degli autori più eseguiti al mondo mi sembra che sia la risposta a questa domanda non deve esserci assolutamente un atteggiamento di fanatismo perché un gigante come Puccini non ha bisogno di fanatici rende fanatici chi ama e capisce la sua musica perché è musica che possiede cioè io adesso ho fatto sei ore di prova mi sento posseduto da Puccini è ancora dentro le viscere dentro le vene proprio le vene del mio corpo cioè un autore che impegna tantissimo emoziona e chiede tanto proprio perché è come tutti i grandi compositori insomma questa è la mia non solo sensazione ma la mia assoluta convinzione io credo che questo sia perfetto per concludere sarete tutti posseduti dalla Roma non uscirete dal teatro camminando ma volerete verso il vostro nido come la rondine evviva evviva grazie 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 grazie